Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Temptation Island non sarebbe lo stesso senza le provocazioni dei tentatori e delle tentatrici, veri artisti dell'attrazione. Con astuzia e charm, riescono a mettere in crisi le coppie, rivelando fragilità e desideri nascosti. Quando il gioco si fa serio, molti fidanzati e fidanzate cedono al fascino di queste nuove conoscenze, trovando spesso strade inaspettate per l'amore oltre le telecamere. Così, alla fine del programma, le storie si intrecciano e nuovi legami sbocciano, portando alla luce un amore autentico e sorprendente. Ma qual è lo stipendio di un tentatore? Sono in tantissimi a chiederselo e a rompere il silenzio, ci ha pensato un'ex tentatrice. Che ha risposto alle domande di alcuni follower su TikTok. Un fan di Ilaria Gallozzi, modella, nonché ex tentatrice di Temptation Island, le ha scritto. Ho visto un video in cui dicono che un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 euro al mese. Lei ha controbattuto dicendo. Non è così in realtà, spiegando che i fidanzati e le fidanzate, man mano che si entra nel vivo del gioco, devono eliminare tentatori e tentatrici con cui hanno legato meno. Ilaria ha precisato che i single vengono pagati giornalmente, aggiungendo. Come molti di voi sapete Temptation Island è un programma registrato e quindi molte cose non vengono mandate in onda. Ad esempio non vedete l'eliminazione dei tentatori. Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati ad eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminati e invece rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate. Nell'interagire con i suoi numerosissimi followers, Ilaria Gallozzi ha chiusato. Più o meno al giorno un tentatore guadagna dai 150 ai 200 euro e quindi non le cifre che avete sentito. Insomma, la fatica di conquistare viene ben pagata. E voi accettereste di fare i tentatori?